Benvenuti ragazzi, io sono Vale03 e adesso faremo una reaction al video alti contro bassi Allora, io non voglio copiare David Rubino, Youtube fa cagare queste persone qua Però voglio comunque fare un format simile Visto che comunque ho già fatto alcune di una, almeno una ne ho fatta già di queste cose Vabbè, adesso vedremo questo video, altri contro bassi, alzerò un po' la voce Per farvi sentire e faremo la reaction Allora, vogliono arrivare a 450.000 iscritti Tra l'altro ci sono quasi arrivati E ovviamente hanno pure più di 34.000 visori di tazzini, quasi 35.000 Infatti praticamente in un'ora, un'ora fa l'hanno messo Chiedono 10.000 like Secondo me le rubano perché i loro contenuti, da come diciamo mi hanno detto, fanno un po' cacare Per esempio un altro po' la voce Visto, ma perché non ci arrivo? Recitazione Recitazione schifosa Recitazione veramente, veramente Che è una merda E vabbè Basta, cioè non aggiungo altro Bella questa qui in alto Si è carina Prendere questa Ragazzi Allora, ci sono tantissime Bambolette così, eh E quella prende quella più in alto Cioè cazzo Una cazzo proprio in alto là Che era solo lei Che sicuramente loro Avranno messo dopo E vabbè Andiamo avanti qua Andiamo avanti Perché una bambina dovrebbe girare a fare la spesa Non insieme al fratello Ma da sola Ma che senso ha Beh, dai, sì Ma la bambina può anche prendere i pacchetti di palatine Quelli là più giù Non è che è tanto un problema Prendere quelli su O prendere quelli giù Cioè la stessa cosa Anzi, quelli su Dove più o meno lei non ci arriva Sono quelli pezzotti Quelli invece a metà Sono quelli là Più buoni, quindi E vabbè mi spieghi il problema Del basso Rispetto a quella Rispetto alla persona alta Cioè Boh Una clip del cazzo Una clip noiosissima Che non fa ridere Non intrattene nessuno Non ha senso Ha guardato pure la telecamera Ma che cazzo guardi a fare la telecamera Devi recitare Devi metterti nella parte Non devi guardare la telecamera Come avete potuto vedere Ha visto Beh, tranquillamente ha preso comunque Una cosa Cioè comunque La noia più totale Questo video Raga Secondo me Io non lo dovrei Finire Di vedere Perché È veramente un video Noiosissimo La noia più totale Almeno Altri facevano ridere Perché erano trash Ma questo è trash Perché è anche Noiosissimo Tutto il tempo Loro che stanno facendo la spesa Stanno prendendo le cose Uno prende le cose in alto Uno prende le cose a metà E beh Qual è il problema La persona bassa Prende le cose a metà La persona alta Può prendere le cose in alto Ma non è detto E la cosa andrà avanti Sicuramente per tutto il video Quindi io Che cazzo la faccio a fare Stare action Poi Una recitazione del cazzo Che fa schifo Sentite Io adesso metto dislike Esco dal video E basta Vaffanculo